e quindi che intenzioni hanno? ma speriamo che non mi mettano dentro perchè sono meglio fuori eh ciao Luca allora che l'aveva fatta quando eravamo presa tu? mi è piaciuto l'articolo? mi è valsa la pena E' stato bravo, è riuscito a condensare un articolo, ma l'ora è persa, adesso sono arrivata la famiglia del corno. Chi? L'ho visto, però poi l'ho perso. C'è di pieno di gente.